Io sono Massimo, il titolare di Lemongrass Gelato e ho aderito all'associazione culturale FASU per il progetto Chi sono gli amici che ci amano, per farvi conoscere le nostre eccellenze, i nostri prodotti naturali realizzati con le migliori materie prime, senza l'uso di additivi, aromi artificiali e grassi dirogenati. Ho iniziato nel 2000 con una piccola gelateria, frequentando corsi con i migliori geladiari d'Italia, tra cui Salvatore Cappellano, e vi aspettiamo nelle nostre sedi di Via Ottaviano 29, Via Le Giugno del 56, per farvi assaggiare le nostre prelibatezze, come ad esempio il pistacchio di Bronte Dopp, il semifreddo allo zabbaglione, o anche i gusti vegani, realizzati anche per le persone intolleranti. Vi aspettiamo al più presto per accogliervi nella nostra famiglia Lemongrass e nel cuore di Roma. Ciao!